Allora stiamo posizionando anche quei bianchi, vedete, dei seggiolini allo stadio, c'è a buon punto, l'impresa sta correndo per finire il posizionamento dei seggiolini per la partita di domenica perché ci piacerebbe domenica riaprire la tribuna est superiore. Guardate, vi ricordate, la parte di sopra era tutta rossa e poi man mano che si scendeva aumentava la quantità di bianco e quindi questo è il primo settore, quello più vicino alla curva nord, lì giù ci sono quei bianchi che sono stati tutti posizionati. Questo è il primo settore vicino alla curva nord che è già completo e ora stanno continuando a fissare gli altri seggiolini. Vi ricordo che l'operazione che fanno è anche di ripristino e di resinatura per coprire i vecchi butti. Vi posso garantire che è veramente bello e quando sarà tutto lo stadio con questi seggiolini sarà la fine del mondo.